Un vero e proprio sportello di assistenza, aggiornato in base alle indicazioni dell'ULS6 e della Regione, a servizio dei cittadini che vogliono vaccinarsi e soprattutto dei più anziani, che i portali non li sanno usare e non hanno neppure un collegamento a internet. Lo ha creato il Comune di Borgorico in collaborazione con i volontari del territorio. Abbiamo già avuto circa una settantina di telefonate, quindi circa 70 famiglie che sono state interessate da questo servizio che ha garantito loro un supporto anche tecnico e informatico, perché poi chiaramente soprattutto le fasce più anziane magari non hanno la dimestichezza necessaria per accedere al portale. Noi abbiamo voluto supplire a questa necessità grazie ad uno sportello apposito che si occupa esattamente di questo. Il punto vaccini è fisicamente operativo nel centro civico del Comune. Il numero da contattare dalle 9 alle 11 è il 350-5342-490. L'informazione è stata diffusa sui social e anche grazie a un volantinaggio. Questo numero di telefono chiaramente è a disposizione di tutti i cittadini e anche chiaramente dei familiari di questi anziani che vogliono chiaramente vaccinarsi. All'interno di questo sportello si possono trovare anche dei volontari dell'associazione pensionati, che è l'associazione appunto dei pensionati di Borgo Ricco, che insieme agli uffici comunali si metteranno a disposizione di chi ha necessità.